Comunque no, io non ci sono mai stato, ho una struttura ossea completamente performante, perfetta, indistruttibile, non mi sono mai rotto nulla, non ho mai avuto problemi vostri umani. Ma perché è flessibile? Cioè è flessibile, tipo, si fletta, fletti là. No, io sono un carro armato. Ma proprio perché lei... Duomo, irremovibile e resistente. Ma perché lei si identifica in un carro armato? Sessualmente parlando, sì. Ma come mai, c'è... È evidente quando, tipo, ci sono alcuni siti che ti chiedono cosa ti identifichi anche, tipo, maschio o femmina, poi c'è tipo il non specificato, poi alcuni hanno cominciato ad aggiungere anche altre categorie. Io, caro armato, gradirei che tu lo rispettassi comunque. No, no, ma va più che bene, cioè, ecco, ma... Ok. Cioè, perché, 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 ecco. Perché, proprio per vari fattori, io sono strutturalmente lento e duro. No, 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 no. Grazie a tutti.